Momenti di panico questa mattina intorno alle 9.30 a Forni, dove un malvivente avvolto scoperto ha fatto irruzione all'interno dell'ufficio postale di via Ostaglio. Sotto la minaccia di una pistola che successivamente si è scoperto essere un giocattolo, si è fatto consegnare 4.000 euro e poi è fuggito via con uno scooter facendo perdere le sue tracce. La direttrice dell'ufficio postale, colta da malore, è stata soccorsa dai volontari del VOPI. Sul posto, gli agenti della questura che stanno indagando per capire chi sia l'autore della rapina. Noi veramente siamo andati verso le 9.30 e non abbiamo visto nessuno. Qualcuno veniva a chiedere dentro che la posta era chiusa e poi dopo abbiamo sentito che c'era stata una rapina. Questa rapina ci lascia pensare che anche qui è finita questa sicurezza che tenevamo, però purtroppo si sa, non si è sicuri mai di nulla. Forni che ultimamente è un po' sulle cronache di Salerno. Sì, purtroppo sì, soprattutto per le cronache, soprattutto per questi extracomunitari che lasciano questa piazza sempre sporca la sera. Dobbiamo stare con gli occhi aperti, ma devono sapere queste persone che ci sono le telecamere, quindi verranno presi sicuramente. Grazie a tutti.